buona giornata amici da massimo fughetti oggi è giovedì 7 aprile 2022 benvenuti alla rassegna stampa di Fano TV come sempre daremo un'occhiata ai giornali il resto è calino e il Corriere Adriatico sulle pagine locali sulle pagine del nostro territorio insomma di terra marchigiana iniziamo la giornata con il santo del giorno vediamo subito la grafica e scopriamo chi è San Giovanni Battista della Salle un santo francese un sacerdote vocato alla educazione soprattutto della gioventù fondò la congregazione delle scuole cristiane e i primi tempi non furono affatto facili ma Giovanni Battista superò tutte le difficoltà con l'aiuto della sua fede alla sua morte nel 1719 la sua istituzione contava 40 case 274 fratelli e 9.885 allievi quindi un successo particolare sono i cosiddetti fratelli saragliani ed ora passiamo alle previsioni del tempo vediamo che abbiamo guadagnato qualche minuto in più rispetto alla giornata di ieri qualche minuto di luce in più il sole è sorto alle 6.38 e tramonterà alle 19.42 piogge e rovesci nella mattinata nel territorio marchigiano poi un graduale miglioramento del tempo con cieli sino a poco nuvolosi le massime saliranno a 19 e 20 gradi già si iniziano a sentire i tipori primaverili il vento sulle coste spirerà da una direzione di ovest sud ovest lo stesso all'interno le temperature comunque sono in calo apriamo il resto del carlino questa mattina sulla pagina di fano e vediamo una apertura un po particolare una apertura di un caso privato papà scambiò la vespa per la carrozzina 60 anni dopo il figlio la ricompra una notizia curiosa enrico fedocci ha riacquistato il ciclomotore che nel 1960 suo padre aveva venduto e l'ha rimesso in strada e qui vediamo appunto il restauratore che sta recuperando questo reperto insomma questa vespa del 1960 ci sono molti innamorati delle vespe a fano esiste un così un attivo vespa club che organizza raduni gite e in tutto l'anno e quindi anche una un gruppo di ragazzi ragazzi si sono sempre ragazzi gli amanti della vespa che si ritrovano periodicamente stanno bene insieme ma la notizia un po vera quella che interessa un po tutti e questa nella seconda pagina attenzione autovelox due già pronti tre sono in arrivo i primi entreranno in funzione a metauriglia e cucurano e poi tra qualche giorno a ponte sasso rosciano e fenile entreranno in funzione tra una decina di giorni due nuovi autovelox che sono stati posizionati a metauriglia e cucurano a metauriglia sulla statale adriatica sud dove il rettilineo spinge gli automobilisti a calzare sull'acceleratore e a cucurano dove transita la flaminia è un centro abitato le case costeggiano la strada e spesso si verificano degli incidenti ieri la notizia è stata data dal sindaco massimo seri che ha annunciato l'installazione dei primi due autovelox fissi e bidirezionali cioè da una parte dall'altra del traffico assieme a questi ne arriveranno altre cinque mobili in altre tante strade urbane siccome non voglio non voglio costituire un agguato ha detto seri il sindaco siamo qui a sottolineare che non sono ancora entrati in azione perché devono essere collaudati attenzione in ogni caso il sindaco comunicherà la cittadinanza con qualche giorno di anticipo la loro accensione comunque la gente ormai è avvisata attenzione a calzare l'acceleratore a superare i limiti a metà origlia e a cucurano perché poi arrivano le monte tre poi sono in arrivo con il controllo mobile e quindi non si sa dove verranno posizionati al momento e poi in questo articolo di spalla si parla dell'area exagip ebbene il monitoraggio in un oggetto che finalmente era stato ripreso e sembrava che la nuova destinazione dell'area fosse prossima in realtà ha rimandato questa al 2023 perché perché si sono scoperte addirittura tre nuovi serbatoi che devono essere bonificati e siccome è inclusa in questa azione anche la salubrità dell'acqua occorre passare sei mesi per fare tutte le analisi e accertare lo stato di salute di questa falda brutte notizie dunque per l'agep il monitoraggio delle acque sotterranee in corso dall'inizio della bonifica dovrà proseguire per altri sei mesi dal termine degli interventi e quindi se ne riparlerà nel 2023 e ancora la giunta non ha deciso come poi così come puoi rifare quest'area che cosa metterci sopra e ieri c'è stato anche uno scontro in superstrada conducenti sono miracolati un suv ha impattato con una monovolume che è capottata per fortuna nessun ferito traffico fermo però per un'ora e mezzo quindi ci sono verificati non pochi disagi ed ora passiamo a saltara passiamo a saltara e vediamo che a saltara si organizza una bella iniziativa rievocando i tempi in cui il centro era la patria del cappello nell'ottocento la produzione del cappello occupava a saltara un terzo della popolazione e sfornava 20.000 copricapi ora una mostra lo racconta è una rassegna organizzata dall'assessorato alla cultura guidato da francesco tadei e curato dalla travel blogger valentina pierucci si potrà visitare fino al 25 aprile tutte le domeniche mattina e i festivi dalle 9 alle 12 e poi nei giorni feriali su prenotazione chiamando il numero 333 769 39 56 333 769 39 56 e veniamo a durbino perché si amplia il palazzo ducale ovvero la visita di palazzo ducale ecco le nuove sale per la cavalcata dell'arte la galleria nazionale aperto alle sei stanze al secondo piano tante le opere in più da vedere il direttore gallo luigi gallo dice mettetevi scarpe comode perché poi il percorso è piuttosto lungo ebbene oggi dunque aprono le sale roveresche occidentali e la galleria delle maioliche il gabinetto dei disegni la riapertura dell'intero piano sarà completata poi il 14 luglio con ben 115 dipinti mai presentati prima e tra le opere non ci sono solo i dipinti ma anche 24 importanti disegni esposti a rotazione più il san gennaio trascinato al martirio delle domenichino e il trionfo del sileno di annibale caracci due opere d'arte di considerevole valore che saranno poi una presenza fissa cinque sculture più 150 maioliche una selezione di ceramiche veramente un insieme di opere d'arte un tesoro che era rimasto nei depositi e che ora può essere visto e visitato dal pubblico ancora sul resto del carlino vediamo un articolo che riguarda fossombrone non solo urbino mostra i suoi tesori ma lo fa anche fossombrone torna a splendere la corte bassa un aiuto anche dal bonus facciate grazie ai contributi che verranno appunto erogati è un'operazione congiunta questa tra pubblico e privato e i condomini si sono avvalsi dei fondi concessi dal governo appunto con il bonus facciate lo ha annunciato il vice sindaco michele chiarabelli per quanto riguarda un'operazione di restauro e riqualificazione dell'importante complesso che si avvale di un contributo di 150 mila euro 33 mila gli ha messi il comune 46 mila il resto il resto della somma è stato invece impegnato dai privati che sono comproprietari delle immobile giriamo anche la pagina giriamo ancora le pagine per vedere la cronaca pesaresi nuova ferrovia ricituona contro la regione che sembra avere arrestati gli entusiasmi nati a pesaro per la comunicazione dell'arretramento della ferrovia non si dice no a un miliardo e 800 milioni di euro ebbene c'è un contrasto è sotto un contrasto sembra che la regione a questo punto abbia fermato il treno insomma abbia puntato i piedi sì perché dice che poi l'aumento del traffico merci andrebbe a discapito dell'aumento dei passeggeri e quindi del turismo che affluisce la nostra provincia non si dice no a un miliardo e 800 milioni ha detto il sindaco ricci il sindaco all'attacco solo la giunta acquaroli non ha ancora dato l'ok a questo progetto lo fa perché la parte più sostanziosa dei soldi arriva forse a pesaro dove la giunta ha un colore diverso rispetto a quello della regione punto interrogativo baldelli invece dice che il sindaco ha manifestato una reazione scomposta ascolti le ragioni dei territori l'assessore replica al primo cittadino il progetto ha un impatto devastante insomma sembra strano perché prima la regione sembrava condiscendere anzi sembrava addirittura entusiasta alla notizia dell'arretramento della ferrovia spendendo anche un aiuto in più per quanto riguarda Fano che ne era stata esclusa adesso invece sembra veramente che abbia un parere contrario e vedremo come andrà a finire maxi antenna soria e rivolta manifestazione di protesta alla baia il centrodestra ha presentato una interrogazione in consiglio comunale tutti ora cadono dalle nuvole ma i cittadini non ne vogliono sapere di questa nuova antenna e poi i lavori del Rossini dal teatro Rossini sembra che insomma facciano una gara contro il tempo per il ROF. ROF al teatro Rossini è corsa contro il tempo i lavori per la nuova sala della Repubblica sono ancora al primo stralcio su tre e la commissione di vigilanza ha sollevato anche delle criticità. I lavori dovrebbero terminare nel mese di luglio nessuno però giura sul rispetto dei tempi e dunque sulla possibilità che il ROF di quest'anno possa essere possa ritornare nel teatro della città troppe le variabili in gioco quindi anche qui ci sono difficoltà. E poi vediamo un fatto curioso di cronaca sul resto del Carlino un senza tetto è stato trovato a dormire nell'ufficio verbale dei vigili urbani non ha trovato soluzione migliore lo hanno scoperto ieri mattina si tratta di un trentenne algerino che non ha gradito nemmeno di essere svegliato e ha già quattro espulsioni rimaste sulla carta. Ha trovato un pertugio è salito al piano terra e si è disteso sui faldoni. Insomma è passato dal garage di sotto e poi ha un pertugio sul garage poi è salito al piano terra e si è disteso sui faldoni. Non ha rubato nulla non ha soltanto così spostato dei faldoni per trovare un luogo su cui distendere il suo giaciglio. Ebbene chi non ha la casa s'arrangia come può. Nel supermarket 60 telecamere titolare cinese finisce a processo. È una rivendita questa di via Ponchelli che è appunto di proprietà di un operatore cinese che è stata sanzionata dopo un controllo dell'ispettorato ci sono si sono lesi i diritti dei dipendenti e secondo gli inquirenti oltre a essere troppe 60 telecamere in una spazio di 1300 metri quadrati non autorizzate quelle telecamere accese su scaffali e corridoi vedrebbero un po' i diritti dei dipendenti. Insomma questo cinese aveva paura di essere derubato in sostanza quindi manteneva tutto sotto controllo ma ha acceduto nei sistemi di controllo. Bene ora guardiamo il Corriere Adriatico lo vediamo sulla pagina di Fano dove l'apertura è dedicata agli autovelox autovelox a Cucurano e Metauriglia. Le ultime verifiche poi li attiveremo e faremo adesso le ultime verifiche poi li attiveremo e in questo caso parla la comandante della polizia municipale non intendiamo fare cassa ha posto le mani avanti a Narita Montagna. Cucchiarini l'assessora che gestisce la delega alla polizia municipale ha detto altri tre dispositivi sono in arrivo e abbiamo già illustrato questa notizia. E poi a fondo pagina abbiamo invece la notizia dei nuovi ritrovamenti nell'area dell'ex Agip altri tre serbatoi che dilungheranno i lavori di bonifica e invece non abbiamo ancora parlato della bonifica bellica che si sta compiendo sul parco dell'aeroporto. da oggi verranno setacciati 11 ettari, un breve summit prima dell'avvio e poi i lavori affidati a un'impresa specializzata padovana. Insomma si fa questo atto preventivo di bonifica bellica perché l'aeroporto durante l'ultima guerra è stato oggetto di molti 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 bombardamenti sono piovuti tantissime bombe. Allora anche Fano era una città sotto mira come lo sono ora le località dell'Ucraina. Anche Fano ha sofferto di questo magari in minera forse in maniera meno diciamo così minore, non lo so, non so come definirla. Comunque i morti ci sono stati e soprattutto ci sono state le rovine. L'aeroporto è stato completamente bucarellato dalle bombe piovute dall'alto. Un breve summit dunque prima dell'avvio perché poi si eseguirà il secondo e il terzo stralcio del parco dell'aeroporto. Vediamo anche in che stato sono i sottopassi che attraversano la ferrovia nella zona sud del fiume Metauro. Sono invasi dalla sabbia. Vediamo qui questa fotografia. Questo sottopasso che collega la spiaggia di Torrette alla statale adriatica è in questo stato da tre mesi ed è una vergogna. Occorre dunque liberarlo quasi intransitabile dalla sabbia che lo intasa. Raddoppio della centrale di Carrara. Vi ricordo che domani alle ore 18 a casa Bethlehem ci sarà una riunione con il comune e i residenti per verificare un po' la situazione che si verrà a creare nel centro, in questa frazione, per quanto riguarda il nuovo insediamento dell'impianto per la trasformazione della corrente alternata in corrente continua. Un impianto considerevole, molto molto importante, che si estenderà su un'area di sei ettari. Raddoppio della centrale. Luciano Benini, che ha lavorato tantissimo come un direttore di un reparto dell'ARPAM di Pesaro, quindi è un tecnico consapevole, ha detto al momento è tutto nella norma ma in Italia ci sono limiti che sono più alti rispetto a quelli di altri paesi. Se questi poi venissero abbassati molte situazioni si troverebbero in una situazione irregolare. Al furlo rinasce il rifugio, ospitalità sulle Pietralata, il presidente della provincia Paolini, domenica inaugurazione con sindaci e amministratori. Rinasce dunque questa struttura, il rifugio del furlo. La struttura all'interno dell'area protetta nella foresta demaniale regionale del Monte Pietralata era inutilizzata da tempo e nemmeno servita da una condotta idrica. Ora invece, grazie ai lavori che sono stati fatti, questa struttura, questo punto, questo centro di interesse e di attrazione in uno dei luoghi più belli dal punto di vista ambientale della nostra provincia potrà rinascere e attirare turisti. Vediamo anche le notizie che vengono da Senigallia. Divieto di sosta, passaggio libero, gli stabilimenti in stato di allerta e si parla di accesso alle spiagge. Sibecof Commercio concorda sugli accessi aperti, ma servono però controlli per fermare i tempisti. I tempisti sono una piaga della spiaggia di Velluto di Senigallia. Concorda dunque il Sibecof Commercio sul divieto di sosta negli stabilimenti balneari di notte, con il passaggio garantito per chi vuole raggiungere però la battigia, a patto che ci siano i controlli. Bisogna fare e rispettare le regole, è questo che chiede il sindacato. Raggiunto l'accordo, visto che la Confartigianato in presidi Emaniali era già favorevole, si potranno così lasciare aperti gli accessi degli stabilimenti senza obbligare chi vuole raggiungere la riva a passare dalla spiaggia libera. Insomma si può transitare anche attraverso gli stabilimenti per raggiungere la battigia. E veniamo anche alle notizie di Pesaro pubblicate dal Corriere Adriatico. Ebbene si inizia con la polemica sull'arretramento della ferrovia, polemica tra il sindaco Matteo Ricci e l'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli. Per Ricci l'arretramento della ferrovia a Pesaro è un'occasione storica. Guai se la regione dirà no al bypass. Invece per Francesco Baldelli la reazione del sindaco è una reazione scomposta. Ricci snobba il confronto. Questa ultima osservazione si riferisce al fatto che Ricci non è intervenuto all'incontro ma ha mandato un suo delegato. Insomma Francesco Baldelli evidenzia anche questo fatto. Telefonia mobile a Soria e contro la super torre 5G si rivolta all'intero quartiere. Qui vediamo alcuni protestatari e qua in questa foto di gruppo insomma i cittadini che protestano. e hanno organizzato una manifestazione in piazza Europa. Poi hanno spedito una lettera al sindaco. Congela il processo hanno detto al sindaco. I residenti cercano un legale esperto in questioni ambientali. Insomma non vogliono questa grande torre che rovina un po' anche il panorama ma crea anche problemi di carattere secondo loro. Insomma sono dei timori di carattere sanitario. E poi qua invece in questa pagina vediamo l'AD, l'amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli che annuncia come il biodigestore strategico andrà avanti. Avanti con iter e progetto. Costi mutati ed eco-incentivi in scadenza ma per Tiviroli il metano fa la differenza. Renderà autonome 5-600 famiglie. I ritardi e beh si è atteso chi non è mai arrivato. Dunque il percorso autorizzativo sul biodigestore va avanti compreso l'iter per la conferenza di servizi da parte della provincia. Vorrei tranquillizzare, ha detto Tiviroli, tutti coloro che sono coinvolti nel progetto sulla nostra intenzione di portarlo avanti fino alla fine. Quindi nessuna rinuncia per quanto riguarda questo impianto sulla Valle del Foglia. Dal pronto soccorso alle guardie mediche la Regione ha solo sciupato l'eredità del Partito Democratico. A parlare così è Giampiero Bellucci, il segretario del Partito che si riferisce a Salta Martini, l'assessore regionale alla Sanità. È una polemica di carattere politico perché il PD quando era il governo della Regione ha delineato un sistema, poi il colore politico della Giunta è cambiato, se ne è proposto un altro e quindi c'è un batti e ribatti sulla questione del pronto soccorso. Prima razziano le auto sotto casa e poi le usano come testa d'ariete. A Gradara i residenti denunciano uno stilicidio di furti e se i mezzi si ritrovano non mancano le sorprese. Infatti le sparizioni sono iniziate a settembre, l'ultimo trafugamento è accaduto pochi giorni fa. Questo è veramente un dramma per Gradara perché non è solo un caso isolato che si è evidenziato ma sono diversi. E quindi certamente c'è una banda che sta operando in quel territorio. Vediamo anche le notizie che giungono da Vallefoglia. Monbaroccio vola a Gerusalemme, siamo qui, siamo vivi per Herzog. La delegazione con il sindaco Petrucci in testa è andato dal presidente di Israele. Possibile un gemellaggio. Ebbene, bellissimo questo rapporto tra Monbaroccio e Gerusalemme. A Urbino invece si parla ancora della sede del commissariato, sede polizia, visita del questore. Todisco e il sindaco Gambini hanno effettuato un sopralluogo in tre edifici del centro cittadino. Una prima concreta risposta questa al malumore emerso contro lo stabile individuato in località Sasso. Si cercano dunque alternative, si valutano sedi alternative per il comando della polizia di stato di Urbino. E poi uno studente sale sulla gru ed è stato denunciato, incastrato dalle telecamere, voleva fare delle riprese. Ed ora vediamo anche qualche notizia di sport sul resto del Carlino per quanto riguarda il fano calcio. Vis ho ancora tanto da dare ai giovani. Parla così Rubin che potrebbe rivedere il campo dopo un girone di ritorno in panchina. A 34 anni, non mi sento vecchio, ha dichiarato Olbia una trasferta insidiosa. Ma oserei dire che tutte le partite sono importanti per quanto riguarda i biancorossi che ormai in una posizione di moderata tranquillità cercano appunto di condurre un campionato dignitoso. Ed è quello che si appresta a fare anche il fano calcio. Comunque l'articolo di oggi riporta un problema per la squadra perché sono stati combinati due turni di squalifica a Olivieri e una a Tortori. L'allenatore catalano commenta bisogna evitare le ingenuità. Il calendario comunque è stato modificato ed ecco le prossime date. Domenica prossima 10 aprile si giocherà alle ore 15 la partita Pineto-Fano. Giovedì 14 alle ore 15 Fano-Trastevere e poi domenica 24 alle 15 Re Canatese-Fano e poi insomma tutte le altre fino al 22 maggio quando si giocherà Porto d'Ascoli. Fano dunque incontri impegnativi per quanto riguarda la squadra Granata. E questa era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento a domani alle ore 7 per le notizie del giorno alle ore 20.30 con occhio alle notizie di Fano TV. A risentirci.